Ragazzi, prima di questo nuovo video oggi ragazzi, siamo qui su Fortnite con il signore Ale, buongiorno Ale Ecco, raga, ho visto da un video su YouTube una roba incredibile raga Allora, vedete questi cronobot? Ok, ne ho molti Questi ti aiutano a fare le lobby in partita di bot, solo che a noi non ci funziona, ok? Però, volete vedere che skin hanno? Guardate E soprattutto i livelli, guarda, li invito tutti Guarda un fantasma! E la Renegade Rider, guardate Quante persone? Aspetta Aiuto Uraga, guardate quante Renegade, aiuto Lo so che siete confusi quanto me, però è bellissimo Allora Aspetta Aspetta, mi sa che dobbiamo togliere addirittura le persone, per quante sono Se dobbiamo giocare Spelli Spelliamo Anzi, voglio solo la lobby di Renegade Rider, vai Allora Non sono degli hacker, raga, ok? Sono dei bot, semplicemente Lo guardate, raga Aiuto 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 Allora Non mi fanno mettere pronto Secondo me è perché ho fatto un po' troppo Sei anche te d'accordo? Aspetta Ne spegliamone un po' Ne spegliamone un po' Sono un po' tanti, capì? Un pochino Dai Pochino Risa squadra No Vabbè Questo doveva essere dei bot, ma adesso è diventato praticamente Aspetta Ne togliamo un altro, magari Guardate, raga, il livello 7777 Vabbè Vabbè Raga, non mi fanno mettere pronto Ho paura che sono crashato Spell Raga, mi sa Cioè Tu sai come avere la lobby di Renegade Rider Vabbè Vabbè Raga Purtroppo non ci fa mettere pronto Quindi, raga, spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale Mettete la campanina Per supportarmi, ragazzi Ciao Salutate Renegade Rider Ciao, ciao Ciao